Dopo 15 anni lascia alla tenenza dei carabinieri di Villaricca il comandante Salvatore Salvati. Stamane nei giardini di Palazzo Baronale l'amministrazione e le scuole della città hanno voluto salutare una delle figure storiche dell'arma villaricchese. Salvati andrà adesso alla compagnia di Marano come comandante di stazione. Numerose le operazioni portate avanti negli anni a Villaricca dove i carabinieri rappresentano un importante punto di riferimento nel contrasto alla microcriminalità ma soprattutto alla camorra contro il clan Ferrara Cacciapuoti. Sicuramente Salvatore Salvati, il comandante della locale stazione dei carabinieri, è una persona che lascerà un segno in questa comunità perché è sempre stata una persona che ha svolto le sue funzioni con grande dedizione ma soprattutto con grande umanità. Quindi è un dovere salutarlo oltre che un piacere e tutte le scuole del territorio insieme alle parrocchie e alla comunità locale hanno avuto questo sentimento di gratitudine e di affetto nei suoi confronti. Ci dispiace che ci lasci, ci auguriamo che faccia una carriera ancora più brillante dove sarà incardinato.